Si sta sentendo solo Marianna, siamo nel backstage di Studio Stadio e la Lady che scema non è in mezzo a due bei Tomazzi, due bei Torincelli. Iniziamo dal nostro massimo, anzi no, iniziamo da gioia, ormai sei la nostra gioia, Gino ti ha battezzato così, sei la gioia di Lady Toro. Che partita hai visto oggi? Beh, una partita dalle due facce, nel senso un primo tempo molto triste dove non abbiamo fatto nulla. E c'è la faccia di Gino? E c'è la faccia di Gino, ma il vantaggio è che almeno la prossima che è Gino di nuovo allo stadio non ce la troviamo in studio, ma comunque. Il secondo tempo un po' diverso, abbiamo giocato un po' meglio, abbiamo fatto qualche cosa di decente, soprattutto negli ultimi dieci minuti, quindi comunque mi aspettavo sinceramente qualcosa di più oggi, sicuramente. Che partita hai visto a Katinen? Una partita come il Torin ha regalato parecchio in ultimi tempi, cioè quando c'è da usare al bracino corto, comunque ha paura di portare a casa il risultato. Quando a un certo punto, in questo caso a un quarto d'ora della fine, quando eravamo in un uomo in più, decide di ingranare la quarta, gioca allora un quarto d'ora di buon calcio con un paio di occasioni mostruose regalate al Mantua. Quindi tutto sommato, nonostante il pareggio sia fondamentalmente giusto, o come dire, il brusa curl, cioè l'acidità di stomaco su quelle due occasioni mostruose mangiate da bianchi nel finale. Quindi a parte poi il ricorso al gastroenterologo e a tutti questi antiacidi, noi ormai siamo nei play-off, ma tu al di là della speranza, quanto ci credi? Beh, il calcolo della probabilità è contro di noi, perché comunque la sesta o la quinta, nella migliore delle ipotesi, ha molte meno possibilità della quarta o della terza per motivi banali di meccanismo, cioè il fatto che la seconda partita si giochi sempre in trasferta e non in casa, il fatto che a parità di risultati passi la squadra meglio classificata, cioè non noi. Detto ciò, il Toro è imprevedibile. Qualcuno, forse Antonelli, in un'intervista di recente, disse che questa è una squadra che sa dare il meglio di sé quando ha l'acqua alla gola. Ecco, più l'acqua alla gola dei play-off non riesco a immaginare, quindi voglio sperare che vedremo in quelle quattro partite il meglio che questo Toro può dare, magari quel meglio che nel corso dell'anno non siamo riusciti a esprimere. E il presidente, il presidente Guerrini? Ma il calcio è fatto di episodi, quindi noi ormai abbiamo ottenuto l'obiettivo di andare a giocarci i play-off, dopodiché abbiamo vinto delle partite che non meritavamo di vincere, quindi questo può assolutamente ancora succedere. L'ovvietà è che la terza sia favorita al di là del meccanismo e anche la favorita perché è la più forte, perché tra la terza e la sesta ci sono sempre quei 5-6 punti di differenza che quindi durante il corso del campionato se li sono guadagnati. Però ripeto, quest'anno non hanno fortunato per noi, abbiamo avuto un po' di fortuna quando è servito, quindi perché non averne ancora? Io ci credo, io ci credo. Ci credi, ci credi. Sì, ci credo, ci credo. Anche tu ribadiscimelo. No, io ci credo assolutamente, devo dire, chi invoca il pensiero positivo ha ragione, cioè se non ci crediamo noi non crederà nessun altro in questa promozione. Noi che siamo i primi, come dire, portabandiere del Toro, a volte anche ciechi, per troppa fede, troppa passione, dobbiamo crederci e al di là di qualsiasi dichiarazione di facciate io sì ci credo. Ecco qua, la Lady che è ancora in mezzo a questi bei giovinastri, dalla gioia, da cattino, passiamo al nostro Gino Stripoli che stasera mi stava confidando fuori campo, uscirà con Malonga. Sì, buonanotte. Dominique è una bravissima persona, un ottimo ragazzo e mi spiace veramente vederlo a Cesena che si sta consacrando agli onori della Serie B ma che sta arrivando in Serie A col Cesena e non con la maglia Granata. A me spiace veramente tanto perché, diciamolo, è un prodotto Granata perché è stato portato da Tosi qui a Torino, giovanissimo, è stato cresciuto bene e poi non so perché o chi lo ha voluto mandare a Cesena ma non solo in prestito così secco. Sembra che l'abbia dato con il diritto di comproprietà quindi per la metà a Cesena per 750 mila euro. Ciò vuol dire che se il Cesena deciderà di riscattare la metà, lui rimarrà a Cesena per 750 mila euro. E questo vuol dire perdere veramente un prodotto e un futuro. Le squadre bisogna comunque organizzarle sui giovani, il futuro è dei giovani. Malonga è un grande giocatore già adesso, col Cesena lo sta facendo vedere bene. Tra l'altro ovviamente dovremmo iniziare a studiare delle dinamiche di mercato nonostante i playoff, quindi inizieremo sicuramente da metà giugno in poi. In caso di rimanenza in Serie B sono stati fatti i nomi di Moriero, ovviamente quello di Lerda, in caso della Serie A c'è il nome di Dei Allegri che ovviamente è sfumato, e poi quello di Giampaolo che però ha un po' troppo mercato per la Serie A verso altri lidi. In caso di B tu chi vorresti? Io direi di nuovo Giampaolo, perché Giampaolo era già disponibile ad allenare il Torino in Serie B. Se ci fosse una proposta sincera da parte del Toro, Giampaolo è la prima scelta senza dubbio. Moriero sinceramente non lo conosco come allenatore, cioè ha fatto un bel esploi iniziale col Frosinone, però poi si è dileguato. Non so quanta esperienza, perché ci vuole anche esperienza ad allenare il Torino e a subire le pressioni di una grande città e di tifosi che hanno voglia di vincere. Giampaolo da sotto questo punto di vista ha allenato anche in Serie A, bene, mi sembra più pronto. Moriero non lo so, ripeto, se devo dare la mia preferenza io dico Giampaolo oppure Bisoli, che è un allenatore che sta facendo bene a Cesena, ma penso che Bisoli o rimane a Cesena o va a Cagliari. E Lerda? Lerda, Lerda io lo ricordo da giocatore, ha giocato, ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Torino, ha deliziato anche con qualche partita in Serie A il Toro e in Coppa Italia, ha fatto anche qualche gol. Perché no? Al Col Crotone sta facendo bene, ha fatto giocare bene la squadra, ci ha sempre messo in difficoltà. Potrebbe essere l'alternativa a Giampaolo, anche perché poi non ci sono questi grandi nomi. Lerda d'altronde è un prodotto Granata e al di là di questo comunque sta allenando bene. Potrebbe essere anche un atto di fiducia verso un giovane, come lo è stato per Camolese. Camolese è sempre un amico, cavolo. Camolese è un amico. Io gli ho offerto un lavoro, è comunque Camolese. Per me sarebbe facile dire Camolese. Io ricordo ancora quando veniva a casa mia insieme a Davina, altro prodotto Granata, e giocavamo i giochi di società insieme, loro erano Primavera del Toro, però c'erano in questi ragazzi un'umiltà veramente pazzesca. Per cui per me chiaramente Camolese è la prima scelta. Siccome penso che non sia proponibile, per tanti aspetti e tanti motivi, io dico ancora Giampaolo.